Isao Manabe impiega da 1 a 2 mesi solo per tingere questi fili di un profondo blu indaco. Questi tessuti non perdono il loro colore intenso. Così come le unghie di Manabe per tre settimane. Questo, perché Manabe utilizza indaco naturale invece che il più comune colorante sintetico. Un paio di jeans Momotaro tinti con indaco naturale può costare oltre 2.000 dollari. Ma l'uso del vero indaco è solo uno degli elementi che rendono alto il prezzo del denim giapponese. E ogni fase della produzione richiede un'attenzione meticolosa. Ma allora, cosa rende speciale il denim giapponese? Ed è sufficiente a renderlo così costoso? Con denim giapponese ci si riferisce al denim prodotto in Giappone. Ma oggi, più frequentemente al denim cimosato. La particolarità è il modo in cui si lavora il tessuto su questi telai a navetta. Creando un bordo sigillato o ricucito. Chiamato proprio cimosa. L'estremità del tessuto non si sfrangia e non si sfilaccia. Questi jeans si caratterizzano per il risvolto. C'è una linea colorata lungo la cucitura esterna. questo tipo di denim è prodotto a Kojima, in Giappone. Momotaro è uno dei marchi di jeans più famosi di Kojima. Ma prima che si realizzi il denim, si deve prima tingere il tessuto. I loro jeans più costosi sono tinti a mano con indaco naturale. L'indaco naturale proviene dalle foglie della indigofera. La tintura con indaco naturale è stata per secoli una forma d'arte molto apprezzata in Giappone. Manabe tinge 60 rotoli di cotone in diversi giorni. E ognuno di questi rotoli viene strizzato e appeso individualmente. Manabe deve tingere ogni rotolo per circa 30 volte. Altrimenti il colore non sarà un blu abbastanza scuro. Tingere i jeans in questo modo non solo richiede più tempo, ma costa anche di più. Un chilo di indaco sintetico costa tra i 4 e i 5 dollari. A seconda della qualità, l'indaco naturale potrebbe costare 10 volte tanto. E un sacco è sufficiente solo per tingere circa 15 paia di jeans. Sebbene i coloranti naturali aumentino il costo di produzione, hanno effetti unici su questi jeans che non hanno i coloranti sintetici. I coloranti sintetici industriali hanno sostituito quelli naturali. Quindi i jeans realizzati con tinte naturali sono considerati un prodotto pregiato. Questo è in parte il motivo per cui i kinten etichetta d'oro di Momotaro valgono oltre 2000 dollari. L'aumento del prezzo di questo paio di jeans è frutto dello sforzo extra, dell'abilità, e del denaro necessari per tingere i fili a mano e ottenere il colore giusto. Non tutti i denim giapponesi o i jeans Momotaro sono realizzati con indaco naturale. Ma il prezzo rimane comunque alto, da 200 a 300 dollari per un paio come questo. La ragione di questi prezzi è il modo in cui viene tessuto il denim giapponese. Prima che la Toyota producesse automobili, fabbricava telai come questo. Introdotti negli anni venti, questi telai Toyota non vengono più prodotti oggi. e anche se sembra che stiano lavorando velocemente. Questi telai richiedono 5 volte più tempo rispetto ai moderni telai a proiettile. nonostante i telai siano automatizzati, un esperto tecnico Momotaro deve tenerli d'occhio mentre sono in funzione. Controlla che funzionino senza intoppi e che tutti i fili siano allineati correttamente. Ma anche così, qualcosa può andare storto. Inoltre, questi telai producono pezze larghe meno di un metro, che è circa la metà della larghezza del denim normale, quindi c'è bisogno di più tessuto per realizzare un paio di jeans cimosati. Questo è un altro fattore che aumenta il costo di produzione, e quindi, il prezzo finale dei jeans. I telai a navetta sono anche meno precisi dei telai a proiettile. Ma le variazioni nel tessuto rendono ogni pezza unica. E questo è ciò che dona a questi jeans il loro valore. Mentre la maggior parte jeans ha una superficie liscia, il denim giapponese è un po' più ruvido. Mentre la maggior parte dei jeans Momotaro sono realizzati su telai automatizzati, i jeans etichetta d'oro più cari sono prodotti con un altro metodo. A mano e con un telaio più antico. Kazuki Ikeda ha bisogno di un'ora per realizzare solo 10 centimetri di tessuto. Ma se questo processo aumenta il prezzo, lo sforzo extra gli conferisce una sensazione diversa. E per gli appassionati, vale la pena viaggiare dalla Thailandia a Tokyo per acquistare il paio più costoso di Momotaro. Dopo la fase di tessitura, il denim passa alla stanza del cucito. Secondo Eddels, i denim generici pesano in media 300 grammi, mentre la maggior parte di quelli giapponesi circa il doppio. Il peso maggiore rende il lavoro di Naomi Takebayashi più impegnativo. un'altra caratteristica del denim giapponese è la natura artigianale delle del modo in cui i jeans vengono creati. Da Momotaro, tutte le cuciture sono fatte a mano. Lo stesso vale per l'aggiunta di ciascun rivetto di rame. L'aspetto finale di un paio di jeans dipende in gran parte dall'attenzione ai dettagli di Takebayashi. Poiché i telai a navetta sono meno precisi, il tessuto avrà naturalmente diverse imperfezioni. Ma se un paio di jeans in negozio ha qualcosa che non va. Lo rimandano indietro qui, alla sala controllo qualità. Takebayashi aggiusta meticolosamente i jeans mandati indietro, riparando eventuali rotture con una pinzetta. Momotaro è solo uno dei circa 40 produttori a Kojima, luogo di nascita del denim giapponese. Mentre il denim giapponese di questa città ha trovato una propria dimensione. L'industria di Kojima non è stata prominente a lungo. Nei decenni successivi il denim giapponese ha raggiunto il mercato mondiale e oggi è considerato uno dei migliori tipi di denim al mondo.